domenica nel giorno del patrono sante renze sono state annunciate alcune novità importanti per l'arcidiocesi di pesero da qui agli anni a venire tra queste la nomina preannunciata di don marco di giorgio a vicario generale dell'arcidiocesi a pesero a valle foglia in tanti conoscono don marco di giorgio conoscono meno quello che è un ruolo di vicario generale spieghiamo dal diretto interessato di cosa si tratta beh adesso lo devo scoprire un po anch'io è di cosa si tratta però in parole povere è il vicevescovo diciamo così cioè il vicario del vescovo quello che aiuta il vescovo in tutte le sue decisioni e anche in tutte le sue funzioni che lo sostituisce quando il vescovo non può andare in alcuni posti non sono nelle celebrazioni ufficiali in alcuni incontri così e anche che condivide un po la sua responsabilità nella gestione della diocesi quindi in tutti gli affari sia amministrativi diciamo gestionali economici sia di gestione invece più importante pastorale quindi spostamento dei preti problemi delle parrocchie linee guida per la vita della diocesi un po in tutto il governo diciamo così della diocesi per lei rappresenta un onore una gratificazione come possiamo definirla beh un onore quando te lo dicono un bell'impegno quando lo devi fare insomma è nel senso che è già non è che non avevo niente da fare nella vita però diciamo che anche una bella dimostrazione di fiducia da parte del vescovo e forse da parte anche degli altri preti delle persone perché è stato anche il frutto di una consultazione che il vescovo ha voluto fare chiedendo dei nomi da parte di tutti i sacerdoti di tutti i diacoli tutto il consiglio pastorale quindi penso che qualcuno il mio nome l'avrà fatto quindi anche un come dire un sentirsi dato così oggetto di una fiducia speriamo di ricambiarla ricordiamo che però non cessa l'impegno di don marco la parrocchia di montecchio no infatti rimango parroco di montecchio anzi la parrocchia di montecchio viene unita come comunità pastorale anche con belvedere fogliense rio salso e padiglione quindi aumenta il territorio e la popolazione però insieme con me verranno due sacerdoti don nicolas e don germano con cui condivideremo diciamo l'impegno anche perché io sono a montecchio da soli diciamo così tre anni poi sono arrivato in pieno covid quindi con tutte le difficoltà del team del caso è solo un anno praticamente che a pieno ritmo ha ripreso tutta l'attività pastorale cerco di portare avanti tutti e due speriamo di sopravvivere lei si è definito quasi un vicevescovo da adesso in poi parlando invece del vescovo che ha un percorso comunque recente nel nostro territorio si può già fare una valutazione del suo impatto se è cambiato qualcosa su anche quella che la percezione dei fedeli beh don sandro come si fa chiamare lui no è molto come posso dire una persona molto alla mano molto diretta molto vicina alla gente la gente mi sembra l'ha apprezzato tanto no fatto di farsi dare del tutto cioè sono piccole cose non farsi chiamare eccellenza ma farsi chiamare don sandro poi la la sua presenza è stato veramente presente ovunque in quasi tutti gli eventi piccoli e grandi della vita cittadina della vita diocesana mi sembra che ci sia una percezione molto bella della presenza del vescovo in questo momento e anche la partecipazione molto forte al convegno diocesano che c'è stata la settimana scorsa no c'erano più di 500 persone quindi fa capire una come dire un interesse una partecipazione un coinvolgimento delle persone e poi il fatto che già il secondo giorno abbia mangiato la pizza rossini cioè è stato un grande una grande inculturazione nel nostro territorio